buongiorno da leandro magi lo vigo in diretta qua siamo davanti al suo maestà il po il ramo più importante il po di venezia perché perché c'è un progetto di rinaturazione del po in generale con un investimento nel pnrr di 352 milioni di euro per tutti i 652 chilometri di questo grandissimo fiume ma non solo ben 35 milioni e adesso vi spieghiamo anche in che in che sistema saranno destinati alla nostra area da ficarolo fino al delta sono 28 milioni che riguardano i sette interventi che ricadono sul territorio polesano e ci sono altri 6,5 milioni che interesseranno pure ariano polesine taglio di po anche se la localizzazione dell'intervento è stabilita sulla sponda opposta quindi in tutto circa 35 milioni per 10 interventi nel tratto da ficarolo al mare è un progetto che servirà a riattivare i processi naturali a favorire il recupero della biodiversità garantendo il ripristino del fiume e un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche per quanto riguarda gli interventi in polesine quello più oneroso oltre 9 milioni è la riqualificazione naturalistica dell'isola della batteria e interesserà una superficie di 19 ettari a portotolle l'intervento su volta vaccari per 1,4 milioni di euro nonché un ulteriore intervento di 6,5 milioni a metà con porto viro per la formazione di nuove specchi d'acqua a profondità variabili in modo da mantenere ed amplificare la vocazione faunistica della golena di capisani saranno poi coinvolte l'oasi di cammello il bosco della donzella i comuni di corbola popozza taglio di poi adria per la riqualificazione delle aree umide su entrambe le sponde nonché la realizzazione di opere a protezione alginale sul gomito di corbola e mazzorno sinistro ultimo ma non ultimo un riboschimento da 380 mila euro per l'area di poli tramontana rosolina mentre ad ariano 1,8 milioni serviranno per la riprofilatura delle sponde un progetto quindi ambizioso importante per questo grande malato come qualcuno l'ha definito che il po vedremo se riusciremo ad ottenere tutti questi soldini tra l'altro ci sono delle scadenze tecniche per presentare i progetti ma tutto questo lo scopriremo solo vivendo